Ciao ragazze, io sono Federica e bentornati in questo nuovo make-up tutorial. Oggi vi propongo un make-up veloce, luminoso e adatto per le ragazze molto giovani e per la scuola. Iniziamo applicando una crema idratante sul viso, passaggio fondamentale questo, soprattutto in inverno quando abbiamo la pelle più secca. Applichiamo una BB cream o un fondotinta leggero, che ci aiuta a coprire le imperfezioni in modo naturale. In caso di acne vi sconsiglio di coprirle con strade abbondanti di fondotinta, piuttosto usate un correttore solo su queste, picchiettandolo con le dita. Usiamo il correttore anche per coprire le occhiaie, picchiettandolo delicatamente. E fatto questo, fissiamo tutto con la cifria. Passiamo ora al trucco degli occhi. Usiamo un matitone marrone come base e stendiamolo grossolanamente. Fatto questo, lo sfumiamo con le dita. Nella parte estena della palpebra mobile sfumiamo un ombretto marrone scuro. E per illuminare il make-up tamponiamo nella restante parte di palpebra un ombretto shimmer rosato. Perfetto! Mettiamo il punto luce sotto l'arcata sopraccigliare. E poi passiamo al mascara. Per quanto riguarda le sopracciglia, pettiniamole e andiamo a riempire i buchini con la matita. E completiamo il look con un balsamo per le labbra. Ed ecco fatto ragazze, il look è terminato! Pollice su se vi è piaciuto! Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo domenica qui sul canale con un nuovissimo video. Ciao!